e ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video ho interrotto la serie del minecraft moda tizio e perché perché io cioè nel youtube italia sta spopolando questa serie gioco è la prima versione di minecraft e io dico dove la provano questa cazzo di versione vecchia di minecraft poi ci ho riflettuto e ho detto basta adesso vado a cercarla anch'io su google sono andato su un certo sito e qua si poteva installare la versione di minecraft vecchia ho cliccato subito installata e poi mi è uscita la versione vecchia adesso vedete qui minecraft p demon se centriamo non è la 1.17 bella ma questa strontata dalla schermata veramente vecchia andiamo subito a giocare che schifo ma che schifo è ma il minecraft del giorno d'oggi si deve creare un nuovo mondo che brutto sono proprio curioso di vedere com'è il minecraft come cavolo è fatto ecco io voglio subito vedere com'è la bedrock allora ma sei serio non si può volare fino al c... no vabbè no 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 questo minecraft è bruttissimo va che schifo adesso scavo e voglio andare a vedere la bedrock fatemi andare a vedere la bedrock perchè sono super curioso aspettate aspettate io vado al mare ci vediamo al prossimo video aspettate 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 aspettate